ed ecco cosa ho combinato con il pan di spagna avanzato con la panna con la crema in Grazie a tutti. Un fantastico dessert al cucchiaio. Lasciate riposare almeno un paio d'ore prima di servire. E da di tutto e di più è tutto e vi aspetto presto al mio prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!